ragazzi ben trovati a casa rinaldi l'appuntamento con la musica italiana oggi veramente ci presenta una giovane 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 musicista è giovanissima un viso da bambina anche se qualche annetto di più ce l'ha però guardate qua libra ciao ma quanto sei bella e giovane ma piacere di conoscerti come stai tutto bene grazie bene allora dietro di me c'è la cover del brano che libra ci presenta che porta il titolo di isola un'isola due facce qui capovolta perché abbiamo una pianta sopra una bella quercia una bella pianta e sotto una montagna che va in profondità allora intanto andiamo in ordine libra è una cantante musicista che nasce nel 2003 anche sembra nata ieri perché sembra che ha finito le scuole medie giovanissima e a soli 15 anni nel 2019 compare per la prima volta in tv nel programma direi uno sanremo young e quindi hai cominciato proprio da giovanissima a cantare con vari artisti importanti come gino paoli ad esempio marco masini rock coante quindi di diverse generazioni di diversi generi musicali raccontaci è stata una bella esperienza io mi sono ritrovata che comunque ero molto piccola catapultato in questo mondo completamente estraneo nel senso che è un mondo che uno non si immagina di vivere in prima persona perché è un qualcosa che vedi in televisione quindi arrivare lì incontrare tutti questi grandi artisti avere soprattutto l'onore di poter cantare con loro è stata una grande emozione che per me è stato qualcosa di irreale e surreale che ho realizzato probabilmente mesi dopo però è stato molto bello quindi l'emozione era talmente tanta che non non riuscì a capire quello che stava succedendo ma da una parte meglio perché così hai vissuto il momento senza farti troppe menate per la testa senza anni ecco libra intanto perché libra visto è considerato che ti chiami giovanna camastra sì libra è in primis il mio segnezzosi e poi momento ferma per chi non se ne intende libra bilancia sì 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 è un po la raffigurazione del mio essere ed è un po quello che io voglio descrivere con le mie canzoni ovvero sempre degli artisti molto pacati un essere molto equilibrato ed è quello che voglio andare ad esprimere con la mia musica e quindi per me era credo il nome più corretto quindi quindi giusto così è un po il la bilancia no che sta sempre un po così però poi ci fa vedere l'altra parte della bilancia praticamente questa cover allora intanto isola è il tuo disco d'esordio perché hai cantato e fatto un sacco di cose però questo il tuo primo singolo ragazzi ascoltatelo su youtube trovate la cover dietro di me che vedete e potete ascoltare il brano che porta il titolo di isola un brano molto bello che anche presente in tutti gli store digitali in rotazione radiofonica su spotify da ascoltare 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 di che cosa parli in questo brano diciamo che è una storia in cui questa ragazza realizza il fatto che la relazione in cui si trova non può andare avanti nonostante mille sforzi non riesce non hanno diciamo più quel feeling che avevano all'inizio e quindi è una sorta di realizzazione della chiusura della storia nel ritornello si tra parla appunto di quest'isola che è diciamo una meta immaginaria un posto di una vita parallela nella quale questa storia continua ad andare avanti riesce a trovare una soluzione a tutti i suoi problemi in effetti nel brano di cilisola dove si trova dove si trova sti isola perché la nostra isola perché tu parli della nostra isola ecco dove si trova in realtà credo sia una cosa molto oggettiva una cosa molto soggettiva ognuno a un suo proprio un proprio posto in cui stare o dove si trova bene e quindi magari immaginare anche solo quel posto con la persona che vogliamo a quanto accanto è un secondo me è una bella cosa da immaginare da che porta serenità bene mi piace questa cosa allora dopo l'isola che cosa ci farai ascoltare dato questo è il tuo disco d'esordio ma di sicuro ce ne saranno già altri pronti da uscire vero no per il momento qualcosa c'è ma in pronta uscita no per il momento è uscito questo vediamo come va il tuo sogno nel cassetto un sogno per quando sarei grande 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 perché adesso hai vent'anni ma neanche tanto perché li compierai a ottobre perché sei della bilancia quindi il tuo sogno nel cassetto per quando sarai grande è probabilmente questo ovvero si riuscire ad esprimere quello che sento grazie alla musica riuscire a cantare davanti a tanta gente sempre una bella emozione quella scarica di adrenalina prima di salire sul palco è sempre una cosa che mi ha mi ha sempre portato felicità quindi credo che per continuare su questa su questa linea d'onda la strada migliore hai detto che fai l'università prima così stiamo parlando in privato e a scuola meglio l'università in facoltà sanno che sei anche una cantante conoscono così cosa ti dicono no i miei colleghi mi appoggiano è una bella cosa sì che facoltà stai facendo biotecnologia biotecnologie e quindi anche marina ecco allora perché quest'isola c'è poco poco niente biologia biotecnologia una ragazza che ha tante cose da imparare e soprattutto da raccontarci giovanna camastra in arte libra che ci presenta isola guardate bene questa cover la cover del brano che ci sta presentando questa giovane cantante musicista che ha tante veramente energie da canalizzare tutte nel mondo musicale e quindi io ti faccio tanto in bocca al lupo grazie per essere stata con noi ciao tesoro grazie ciao ciao